Scienza e Conoscenza è un progetto di restauro e conservazione di beni di interesse storico-artistico. Il laboratorio di restauro è stato avviato dal professore Mauro Cappotto in occasione del PCTO del Liceo Lucio Piccolo, una grande occasione per gli studenti del piccolo immersi nel mondo della conservazione e dei beni culturali. In questo caso i ragazzi stanno restaurando manufatti che fanno parte della dotazione storica di arredi del provveditorato agli studi di Messina. Dopo gli interventi di restauro effettuati presso il laboratorio del Liceo Artistico torneranno nella sede di provenienza. Decisamente sì, il mondo del restauro e il mondo della conservazione dei beni culturali è un mondo importante. Noi cerchiamo di solleticare queste sensibilità che portano anche a forme personale di identità del nostro territorio, ci si lega a quelli che sono i beni da conservare e quindi che questi beni così importanti che poi alla fine sono anche risorse per il loro futuro. Oggi è una giornata particolare perché loro stanno proprio operando su quattro mobili di proprietà del provveditorato all'istituto di Messina che ha consegnato al Liceo di Capodorlando per fare un restauro ligno di questi mobili che poi andranno a formare, ad arredare lo studio del provveditorio. Sono dei mobili della fine dell'Ottocento, i classici mobili ministeriali un po' neorinascimentali che arredavano il vecchio provveditorato, quindi erano proprietà diciamo dello Stato, arredavano i vecchi uffici, erano attualmente messi un pochino in disparte. Il provveditorio illuminato ha deciso di recuperare questi beni e restituirgli la vita e noi con il nostro laboratorio di restauro del Liceo Artistico stiamo facendo queste operazioni di pulitura, di consolidamento, di verniciatura. I ragazzi sono entusiasti naturalmente. Di cosa ci stiamo occupando qui? Questo è un tavolo da centro, è sagonale, il piano di sopra però non c'è perché stiamo facendo i piedi del tavolo. Queste qua sono delle forme geomorfe e antropomorfe. Stiamo applicando lo sverniciatore, poi passiamo la lana d'acciaio per rimuovere la vernice e poi infine quando abbiamo finito passiamo l'ovatta con il solvente. Grazie.